Il picco della nuova ondata, la quarta, è ormai superato. Adesso il numero dei contagiati sta scendendo. Rispetto alla terza settimana di gennaio a Legnano l'indice di incidenza per 100.000 abitanti è passato da 1.700 casi a 1.100. Ormai per quanto riguarda i contagi il peggio è passato. Adesso invece però si contano i morti. Ancora per una volta alla fine dell'ondata aumenta il numero dei decessi, che è tornato a livelli che non erano più raggiunti dall'ottobre del 2020. Per questo al vecchio ospedale di Legnano è stato riaperto il deposito Salme, un posto dove si possono mettere i corpi dei defunti non solo per Covid ma anche per altre malattie che non ci stanno nelle camere mortuari dell'ospedale. Legnano in questo fa da punto di riferimento per un bacino molto più ampio che comprende diversi comuni del compressorio. I corpi resteranno qui in attesa di essere cremati o sepolti.